Facciamo un bel applauso al nostro Cristiano? Allora, vedi che si va? Altra volta per visto sicurato, forza, ti vogliamo tirare nel tuo cuore adesso. Allora, vedi che si va, forza tu, dai, 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 dai ragazzi, vedi! Siamo in questo! Facciamo un bel applauso al nostro Cristiano? Vengo a prenderti! Dai Mauro! Ho messo bene il numero dietro? Ho messo bene il numero dietro? Ho messo bene il numero di colori che sta veramente scolorando questo bellissimo atto stradale dove ci sono atleti che si mettono? Allora, vai! Allora, vai! Allora, vai! No! Allora! Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti.